www.radiovera.net notizie di attualità, musica, spettacolo e sport, le associazioni del territorio, gli appuntamenti, il meteo, www.radiovera.net la possibilità di sentire in podcast le interviste della radio, la diretta in streaming e poi programmi e rubriche da leggere o ascoltare www.radiovera.net il primo portale radio della provincia di Brescia Eccoci qua, finalmente si parte, si parte con questo fantastico Bluedent Medical Wellness Center appuntamento in Via Dalmazia da non perdere, molti vi hanno scoperto in quel di sabato durante l'open day ma andiamo nuovamente a salutare il dottor Michele, il dottor Co che sono in nostra compagnia Buongiorno dottori, buongiorno a voi ascoltatori Eccoci qua, appunto finalmente si parte dopo tanti mesi di preparazione, di preparativi e professionalmente di una grande possibilità che adesso offrite a coloro che ci stanno ascoltando Bluedent è attivo, è attivo attraverso come ripeto la nuova sede che è straordinaria io ho dato un'occhiata sulle immagini che avete pubblicato attraverso Facebook è disponibile anche un video realizzato dal nostro Denis Venturi che vi racconta meglio effettivamente perché questa attesa è durata così tanto avete realizzato davvero qualcosa di unico per la città di Brescia, per la provincia ma mi piace dire non solo per Brescia, no? Sì, noi ci indirizziamo non solo a Brescia ma anche alle province circostanti e anche a turisti che possono essere nella zona del lago per cui anche realtà straniere, francesi, tedeschi infatti nel nostro centro abbiamo delle receptionist che parlano correttamente inglese, francese e tedesco è un luogo accogliente ma attenzione non è solo una bella cartolina come spesso capita di vedere ma è un luogo ricco di sale attrezzate per poter davvero ricoprire quelle che possono essere varie richieste il nome non deve ingannare Bluedent è una parte l'aspetto dentistico ma poi offre molto altro Sì, abbiamo numerosi servizi a parte il dentale come dicevi tu abbiamo un chirurgo plastico, un medico nutrizionista, un osteopata, un medico di medicina interna e un otorino e anche un medico che si occupa di fisiopatologia del dolore abbiamo voluto creare questo centro perché ci siamo resi conto che molte volte le persone non sanno a chi rivolgersi cioè a volte ci sono dei piccoli disturbi che non sono delle vere e proprie patologie ma sono considerate dal cittadino, da tutte le persone sono considerate dei disturbi e effettivamente non sanno a chi rivolgersi perché a volte dicono vado dal medico di base e poi dicono no perché dopo mi manda all'ospedale devo stare in attesa sei mesi oppure a volte sottovalutano un piccolo problemino mentre noi abbiamo voluto creare un centro che è un po' un punto di riferimento cioè una persona che viene da noi la nostra mission diciamo è quella di prima riuscire a capire che cosa ha una persona che si rivolge a noi una volta che noi riusciamo a capire questo possiamo, se c'è la necessità di curarlo, possiamo curarlo è fatto bene a ricordarlo dottore poiché come ripeto succede spesso che così durante una visita possono nascere delle complicazioni, delle situazioni nuove che si scoprono magari durante un intervento ebbene molte volte bisogna poi andare altrove con costi diversi con il doversi mettere in attesa del servizio sanitario nazionale quindi mettiamoci le mani nei capelli qui invece è un centro privato che riesce davvero a coprire varie possibilità di intervento con professionisti poiché ricordiamo che oltre al dottor Co e al dottor Michali avete creato davvero uno staff di persone valide che possono aiutarvi, sostenervi e soprattutto essere a disposizione di chi il problema ce l'ha Sì, posso dire anche il nome degli altri professionisti che sono il dottor Antonio Di Stefano che è il nostro chirurgo plastico che viene dalla scuola di Milano abbiamo il dottor Fausto Donati che è il nostro torino laringoiatra la dottoressa Nardi che è la nutrizionista il dottor Andrea Donati che è il nostro medico interno e poi l'osteopata che è Picinelli Alessandro e dopo abbiamo anche l'anestesista che è strutturato nell'ospedale di Cremona che è il dottore Rossetti Dico che una cosa molto importante è che all'interno della nostra struttura tutte queste figure sono in sintonia nel senso che vengono cauduvate per mettere una diagnosi in team dal punto di vista soprattutto una volta che viene eseguita l'attacco con BIN possono essere risolti molti problemi fra l'ausilio della diagnosi dell'ottorino quella del dentista, quella dell'osteopata, quella del medico interno in quanto come diceva il mio collega patologie che sono poco riconoscibili da un punto di vista settoriale di un'unica figura specifica come appunto può essere l'ottorino possono essere valutate dal punto di vista del dentista possono essere valutate dal punto di vista anche del fisiopatologo del dolore che con delle iniezioni può risolvere delle terapie particolari Ecco, io stavo leggendo anche attraverso il vostro sito internet i vari servizi che poi svolgete ne abbiamo citati alcuni ma vorrei citarli davvero tutti vi occupate di odontoiatria di implantologia a carico immediato di chirurgia estetica di osteopatia medicina interna di nutrizionismo questo è un aspetto decisamente molto importante di fisiopatologia e terapia del dolore e non ci siamo mai diciamo dilungati anche sulla medicina legale anche questo è un servizio importante che avrete voluto inserire nel vero senso della parola in tante altre attività che troviamo tutte in uno stesso ambiente Sì, abbiamo l'appoggio di un medico diciamo legale in quanto ai giorni nostri purtroppo più volte è capitato di vedere, di dovere visitare dei pazienti insoddisfatti dalle precedenti terapie quindi l'unica cosa deontologica e giusta e corretta da fare è far rivolgere queste persone a un medico legale un medico che sape perché non è né deontologico parlare male dei colleghi o dare delle valutazioni a valle perché prima bisogna vedere le problematiche che ci sono state a monte di queste cure quindi noi mettiamo a disposizione anche l'esperienza, la professionalità di un medico legale per indirizzare e consigliare i pazienti su come agire e su come confrontarsi senza per questo voler spingere nessuno a fare nessuna azione legale è solo un consiglio, una cosa che noi abbiamo da dare ma ecco lungi da noi il pensare di arrivare a creare diciamo dello scompiglio o indirizzare i pazienti verso una strada che magari non è percorribile è meglio fare una valutazione però attraverso un professionista in modo di non scontrarsi con problemi che poi nascono successivamente e anche questo credo che sia importante ricordarlo da quello che ho capito dal vostro ingresso in radio insomma le cose sono partite decisamente bene poiché vedo i vostri cellulari suonare spessissimo quindi vuol dire che davvero il messaggio di Bluedent comincia davvero ad arrivare come ci auspicavamo qualche mese fa quando l'avventura è partita sì, il messaggio di Bluedent è partito con un Open Day che è stato fatto a porte aperte sabato 8 giugno dove i nostri pazienti e comunque amici, conoscenti, invitati e tutta la cittadinanza bresciana è stata invitata a visitare il nostro centro dove c'erano le figure dei vari professionisti che potevano così intrattenere i nostri ospiti e potevano anche così dare un'opinione senza essere una giornata di terapia o di diagnosi semplicemente un modo per far conoscere il nostro centro alla realtà brisciana e tutti possono sempre venire a visitarci perché noi abbiamo creato un centro che non è solo un centro dal punto di vista medico dove incute un certo timore al paziente dove entra e si trova in una sala d'attesa di sconfort con questi divani un po' tristi tipici un po' degli ambulatori degli ospedali o degli vecchi studi con i giornali dell'88 noi abbiamo invece due sale di attesa una relax dove abbiamo delle poltrone massaggianti uno schermo 3D abbiamo la chiavetta perché così uno può vedere i film o ascoltare la propria musica e poi abbiamo invece un'altra sala d'attesa dove ci sono dei gruppi di salotti sempre con due televisori a 60 pollici in 3D in una sala d'attesa dove c'è soprattutto luminosità dove c'è confort dove c'è un aspetto proprio di un salotto non di una sala ambulatoriale in più anche per i bambini con dei giochi con dei film adatti per la loro età è stato davvero pensato a tutto per poter offrire un servizio davvero importante e a questo punto io vi ricordo l'indirizzo di Bludent è in via Orzinuovi 3 a Brescia giusto per capirci meglio è nella zona che tra via Dalmazzi e via Orzinuovi fa praticamente ad angolo dove c'è Media World giusto per dare un'indicazione pratica vi ricordo il numero telefonico per avere informazioni e a questo punto in base al vostro problema avere un professionista dell'equipe Bludent a vostro servizio è lo 030 35 30 8 34 ripeto 030 35 30 8 34 per i più smanettoni a livello di internet possono andare comunque anche su Facebook e mettere il proprio mi piace sulla pagina di Bludent in modo anche di vedere tutti i servizi ben così fotografati in modo da essere decisamente molto chiari e facilmente comprensibili da parte di chi vuole chiaramente scoprire il mondo di Bludent dalla prossima settimana cominceremo un viaggio importante poiché vorremmo conoscere non solo il dottor Co e il dottor Micari che in queste settimane sono venuti a trovarci ma con voi arriveranno anche i professionisti dell'equipe che abbiamo già citato e quindi potranno in qualche modo meglio accompagnarci nel mondo che li vede impegnati quotidianamente giusto dottori? Sì, sì esatto sarà così in quanto vogliamo che siano loro stessi a presentarsi e a parlare di quello che effettivamente fanno mi sembra doveroso e corretto Vi ricordo che domani Bludent sarà protagonista con Radio Vera e Radio Bruno nell'ambito di expandere questa iniziativa molto interessante che si svolge alla Fiera di Brescia un'ulteriore possibilità di incontro verso la città e verso in questo caso le aziende che saranno rappresentate oltre 300 realtà quindi un impegno davvero importante anche da parte di Bludent per avvicinarsi al pubblico ricordate Bludent è il primo centro medico chirurgico dedicato alla salute e al benessere integrale con i nostri dottori noi ci ritroviamo tra sette giorni vi auguro un buon lavoro e ovviamente a presto Grazie Grazie A risentirci, grazie Grazie